Wahey Kooj, ben ritrovati da vostro, un Android Ink 91 in questo nuovo episodio di My Hero Once Justice Bene, cominciamo questo nuovo capitolo, però questa storia chiamiamola, che è solo un filmato, però insomma, tanto per cominciare può anche andare bene Conseguenze Sibili Natale Grazie a tutti 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 Però non è giusto Grazie a tutti Wow Wow Ma sono Ma sono Katane Bombe Wow Wow Ok 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 Vedo che Qua ci vado a perde Vai 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 colpicci colpicci No 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 no, no no, difendi, difendi. No 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 no, civico. Corca miseria. Aaaaaa. Oh è andato Certo però che ogni volta dobbiamo ridurre Il posto a brandelli Eh va bene mo Grado S Addirittura Amazing Mannaggia a voi alle Z Non riescono a pronunciare bene le Z I giapponesi E va bene Abbiamo Tantissime personalizzazioni Andiamo a fare Oh emoshi Oh Kirishima C'è Bakugo però Kirishima ragazzi Kirishima mi piace un sacco come personaggio Ok No è che io! Questo è questo, che dicevi! Vieni da qui! Si è solo un po' stasso, hai scato la questa? Vieni, ho fatto un po' di due. Grazie, adesso facciamo le risorse del risultato di un'articcione. Vi facciamare la risultato di un'articcione? Sì, è un'articcione di un'articcione. prima uno poi l'altro ok ok ho bakugou come supporto ragazzi nooo ah lo carica vediamo un po' ah uri se è forte che riesci ma niente quando è infilata nel muro niente una manata una manata le ha tirato le ha tirato la femmina cavoli e pensare che che qui non vedremo neanche il massimo potenziale di kishima perchè qui non non succede ancora una cosa che nel manga c'è successa tutto è se wow devo essere bravo devo essere bravo eh già mi dispiace tantissimo non 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 Già Non sarà affatto facile All Might deve tenere fede al suo nome Dobbiamo affrontare All Might E devo essere Kachan per forza Beh proviamoci La combo peggiore Cioè Midoriya e Kachan Beh ovvio E poi sta usando Depesia Ma così senza preavviso? No Kachan usa solo attacchi esplosivi E vai Ok posare attacchi a ripetizione Lo prendo si Gli sto proprio davanti Bene Ma All Might non si sposta di una virgola Rimane lì No ragazzi No sta combo L'ho fatta benissimo sta combo Ma combattiamo su Come facciamo a combattere appeso a un edificio? Cioè stiamo camminando sull'edificio Ah no scendiamo Sì vabbè La foca del momento Però se io sto fermo Non è che Posso capire la forza centrifuga Mentre corri Ok ma sto fermo lì così Non lo so 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 Quindi ora Ma questa è una storia parallela Quindi per il momento facciamo questa Di Di Midoriya e Baku E' un'altra storia E' un'altra storia Vai E' un'altra storia 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 Non ce lo prendo. Sprecato! Impossibile. Impossibile. No, è impossibile. Eccolo qua, dai. E vabbè, allora. Ah, il full cow lo sblocca quando è in difficoltà. No, vabbè ragazzi, l'attaccavo non si spostava di un millimetro. No, vabbè ragazzi, non si spostava di un millimetro. No, ragazzi, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. No, 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 ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Dai, dai. Non è facile All Might, porca miseria. E dai. Grazie, grazie. Dì il cavolo, grazie, ma cosa? Ma cosa? Lo ringrazio per la lotta? Ma no, ma non devi ringraziarlo. Eh. E' un'altra storia! Oh, ma non devi ringraziarlo. E' un problema. E' un problema. E' un problema. Kattian ha tosse mi connello e motore per volanci. Per me, mi è che affida ad andare alla Gautamiana. Mi è ritrovato alla impresione dell'altra la gatta. Ma Kattian era trovato a me. E per quel momento Mie mi credo alla capire che mi ha fatto Really? E per me mi ferito nero a tornare a mezzo a me. Sera ora... Noi, non mi piacerebbe, non mi piacerebbe. Ma che cosa, che è un'imitazione! Ma che cosa, che è un'imitazione! Sì! Sì! Se volete un passo, non mi potete cercare. Ma che cosa, non mi potete cercare. Ma che cosa, ti sono, ti sono, ti sono, ti sono, ti sono. Bene, vediamo un po' se Andando avanti Dunque, in teoria Per andare avanti qui Dovrei completare prima Questi due E poi passare appunto A questo qui A questi altri due, questi altri tre Quindi facciamo così Ci fermiamo qui per questo episodio E poi nel prossimo Facciamo appunto Andiamo avanti, facciamo questi due La storia di Todoroki Più o meno è così che voglio appunto Farli Bene Fuji, per questo video è tutto, come sempre vi ringrazio Per averlo seguito, vi ricordo Che in descrizione ci sono i link per Twitter E Instagram E se ancora non siete iscritti al canale Iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre A prossimo video, bye bye